... su Vic Cos. Grazie. Con queste beghe governative non troveremo, Sadiq, se sbirciassi nell'MI-5. Provocheresti un incidente internazionale e marciresti a Belmarsh per sempre. Solo se mi scoprono. Potete aggiornarmi? Stiamo tracciando i numeri di passaporto ottenuti da Nuri. Analisi di rete, le mappe di attività, i bonifici bancari. Analisi di serie B. Che cosa avete trovato? Nulla. Solo la prova che non dovrei sprecare il mio tempo a macinare routine di recupero dati. Porca troia. Gli ingegneri sono a Londra. Analisi di serie B? Ben fatto, Grimm. Sono tutti quanti collegati a Sadiq. E tra di loro? È una cellula dormiente. Era. Ora è attiva. Quindi che si fa? Abbiamo solo una scelta. Entrare nell'MI-5 e vedere che sanno. Piantala, Charlie. Non possiamo rischiare. Sadiq è un ex agente inglese. Forse ha ancora amici nei servizi. Un allarme e fuggirà prima del nostro arrivo. Sembra che siano rintanati in una vecchia fabbrica. Proprio sull'acqua. O stazioni multiple per cecchini. Studierò un piano. Charlie, aiutala. Briggs. Siamo in missione. Voglio che tu stia di guardia. Ben fatto, Briggs. Roger, vado in posizione bravo. Mi avvicino alla palla. Gli agenti che hanno usato i passaporti rubati sono lì dentro. Stai for one here. Everything looks normal. Sam, rilevo molta attività a terra. Passare dal tetto è l'opzione migliore. Dicevuto. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Briggs, mi stai coprendo? Affermativo. Sono in posizione bravo. Vedo un veicolo in uscita. Pare stiano trasportato carico. Ricevuto. Sam, a ore 12. Tutto bene, Sam? L'alcol. Grazie. Sono sul tetto. Ho trovato delle vecchie planimetrie. Un tempo era una macchina, quindi ci ha muoci carichi sul lato nord. Sono in uscita. Sono in uscita. Sono in uscita. Edo Sniper one Sniper one here, everything looks normal No, no, no. This is Sniper 1. We're all clear. We're all clear. Sniper 1 checking in. Everything's clear. We're all 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 clear. We're 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 clear. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. 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 Perché funzioni non devono trovare il tracciante, è l'unica possibilità. Anche pochi microgrammi di VX sono letali. Sam! Sam! Tutto bene. Tracciante piazzato. Ora me ne vado. Un secondo. Cosa? Sto intercettando le chiamate che passano da ripetitori vicino alla fabbrica. Sono disturbate, ma... Portalo a Ovest. Effettua lo scambio sotto il ponte. E poi vattene. Il riconoscimento vocale dà un risultato parziale. Forse Sadik si trova nella struttura. Invia la posizione sul mio Omset. Io penso al resto. Va bene. Sam, non sei al sicuro finché quel furgone non parte. Farò in silenzio. It was just fine when you drove it in this morning. I don't see what would have changed. So this is what's changed. And I don't want to take any time to drop that boat on board. If you're scared to drive it, I can find someone else. I'm not scared. I'm just cautious. If you don't forget, I need to be clean by the fort. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ci sei quasi, devi solo separare le doppie porte. Vogliono tenerci lontani d'attento. Non ti fermare, Sam. Libero. Via libera. Grim, segnale piazzato. Arriva l'elicottero. Ecco il coltello. Sam. Lo avevamo in pugno. Avevamo Sadiq. Cosa dovevo fare? Dovevi finire il lavoro, Briggs. Non c'è nulla di più importante. Non io, non tu, nulla. Lasciami. Hai chiuso, Briggs. Questa era la tua ultima missione. Grazie. Inviami solo il numero. Come siamo messi? Non sei fuori pericolo, ma le condizioni sono stabili. Non io, Sadiq. Andato. Ma il tracciante è attivo e ora abbiamo una pista. Sam, no. Devi riposare. Ho bisogno di analizzare bene tutti i dati sull'Iran. La Coldwell le ha resi di pubblico dominio. Il paese grida vendetta. Quindi perché siamo qui? Perché Grim non crede sia stato l'Iran. Tu non dovresti essere a calibrare i sistemi? Cosa? Ogni volta che gli ingegneri lasciano dei dati, serve solo a depistarci. Saranno spaventati. Il nostro arrivo li ha colti di sorpresa. Non possiamo rischiare di scatenare una guerra sbagliata. Hai ragione. Non c'è margine di errore. Quindi c'è del lavoro per noi.